Dinanzi ai mercati di Traiano si nasconde il polmone pulsante di Saverio Ungheri che dal 76 pulsa di vita bionica come le vite metalliche che la popolano. Antichi cavalieri tra mura e affreschi medievali difendono l'energia che tutto anima e che una donna trasforma in vita. E nella sala dell'energia, tempo e coscienza di Federico Kampf tutte le convinzioni svaniscono e la realtà non è più la stessa. Inoltre ti nei sotterranei di questo mondo unico e scopri i suoi tesori nascosti. Ci trovi alla salita del Grillo 21. Grazie.